Abbiamo 3 milioni di giovani in Italia che non studiano più e che non hanno un lavoro e non lo cercano nemmeno più. La loro vita è, si svegliano a mezzogiorno, si rintarrano nella loro stanza a giocare col computer, mangiano la sera, vanno fuori e vanno in discoteca. 3 milioni. Allora bisogna intervenire con un procedimento d'urgenza. Quale procedimento abbiamo pensato? Decontribuzione totale per il contratto di apprendistato, 3 anni, e decontribuzione e defiscalizzazione, tutte e due, totale anche per il secondo contratto, il contratto di primo impiego, in modo tale che le aziende abbiano una fortissima convenienza, anche voi, ad assumere giovani disoccupati. Grazie.